Premesso che la nostra scuola è il nostro futuro, noi pensiamo che l'apprendimento della cultura ebraica, dei valori dell'ebraismo, della lingua ebraica debbano contribuire alla formazione di un'identità ebraica che i ragazzi si porteranno avanti per il resto della vita. E' importante per noi riprendere il seminario delle terze medie e portare i nostri ragazzi al memoriale dove possono apprendere la storia della nostra città di Milano e la storia ebraica in generale. Un'altra cosa per noi sempre importante in questo campo è un lavoro di unione con le altre scuole ebraiche della città. Inoltre vorremmo anche dare vita all'Erasmus che servirebbe ai nostri ragazzi per conoscere altre realtà comunitarie dell'Europa e del mondo. Il programma che abbiamo esteso è molto vasto e alcuni programmi sono già in atto come il NETA e l'EFI. Il NETA è iniziato all'inizio di quest'anno. Quello che più ci interessa però è il rilancio dei licei. Per il rilancio dei licei noi pensiamo di voler prendere parte al piano di sperimentazione del MIUR e vorremmo che la nostra scuola potesse partecipare per poter sperimentare un corso di studi di quattro anni che darebbero ai nostri ragazzi l'opportunità di allinearsi con altre scuole europee.